Nella mattinata di ieri il prefetto di Caltanissetta ha presieduto una nuova riunione dal remoto della conferenza provinciale permanente, cui hanno preso parte, oltre al comandante provinciale dei Carabinieri e al capo di gabinetto della Questura, i sindaci della provincia e responsabili del servizio veterinario dell'ASP di Caltanissetta, finalizzata a verificare la fattibilità di soluzioni operative efficaci per risolvere il problema del randaggismo, che, come emerso da diverse segnalazioni, interessa diversi centri del territorio provinciale. In apertura, il prefetto ha sottolineato come il fenomeno del randaggismo, che coinvolge il profilo della sicurezza, oltre ad incidere spesso in maniera significativa sui bilanci degli enti locali, richieda per la sua risoluzione l'elaborazione di iniziative unitarie, in grado di sviluppare un'azione sinergica che vada a vandaggio di tutti i comuni della provincia nissena. In particolare, il prefetto, nel garantire il massimo supporto tramite l'organismo della conferenza provinciale permanente, quale sede privilegiata per la risoluzione di tematiche che richiedono per la loro risoluzione il coinvolgimento di diversi soggetti, ha rivolto l'invito ai sindaci, prima di un prossimo incontro, a elaborare in maniera congiunta in sede di conferenza dei sindaci validi progetti che, affrontando la problematica in una dimensione provinciale, consentano di approntare una soluzione univoca per risolvere il serio problema del randaggismo. La realizzazione di tali progetti ha infatti rimarcato il prefetto, oltre a permettere l'attuazione di soluzioni efficaci e innovative per debellare il fenomeno del randaggismo, rappresenterebbe l'occasione per sensibilizzare la collettività ad un maggior rispetto degli animali e contrastare il triste fenomeno dell'abbandono, contribuendo più in generale ad accrescere il senso civico. I sindaci presenti hanno accolto con grande favore le proposte e si sono mostrati disponibili a mettere a fattor comune idee e progetti con gli altri comuni della provincia, per mettere a punto un sistema coordinato che soddisfi in maniera efficiente le esigenze dell'intero territorio.